Sì che l'hai visto, sì che l'hai visto, sì che... Oh, signor, non se le fa le le... No, 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 porca la miseria! Ho dovuto... Oh, sparare le gomme, sparare le gomme, sparare le gomme, sparare... No, la fugona no! La fugona no! Maiale! Vieni qui che ti devo assolutamente prendere, porca la miseria! Ho dovuto maxare l'arma per sbaglio, spinto quadrato... Eh, è scappato, è scappato il criceto... L'amico dovrebbe essere qua? No, era senza amico... Verme! Oh, 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 oh... Oh, sono spazzito, scena a pusciare così? Ok, l'abbiamo fornato molto probabilmente è l'amico del verme official, eh? Un saluto agli ultimi iscritti e iscriviti ora per essere salutato nel prossimo video. Ah, signorino, buongiorno! 32 per farti soffrire, poi dichiaro... C'è, mi ha sfidato solo con un'arma di Star Wars, questo è un pazzo, ma questo era un pazzo! signori miei forse la combo più bella che vedrete oggi in assoluto o aspetta 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 perché abbiamo suor ma falda in compagnia delle cetrioli un guardate quanto è cattivo quante arrogante quanto è serio questo diavolo di cetriolo che attivissimo qualcuno ci stava sparando noi dobbiamo stare uber attenti sento ok sento passi c'è qualcuno porta il 46 o salve signore 46 ma dove va ma dove va signor 46 o funghetti 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 per line ci rifacciamo subito ma questi non erano assolutamente gli amici di quello il tizio che ha scappato con la macchina lo dobbiamo assolutamente andare a troppo stanno ma io dico ma io ragazzi ragazzi ma non si è sparsa la voce nella mappa che c'è una suora cattiva a pinnacoli cioè questi fanno finta mi stanno proprio mi stanno proprio offendendo per questo scappa con la macchina ma sono già in due però questo è un pazzo questo è un pazzo signori per me lo prendiamo lo prendiamo lo prendiamo salve niente proprio black signor black signor black ma signor black ma doveva la suora con il cetriolio che sorride per un attimo è il balletti che tra l'altro sto mai cacetino lino che abbiamo dietro le spalle dovrebbe essere anche reattivo ma forse o quando viviamo o quando facciamo qualcosa di strano o o o o o o double player in o double energia si sicura o quello ha sbloccato la skin di pancromo ai 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 lo so lo so calmo signorino ma forse forse non c'è riconosciuto forse non ha visto che diavolo siamo ok li andiamo a prendere a questo punto li andiamo a prendere anzi li smarmelliamo per non sapere leggere e scrivere ragazzi siete qua fermo oh sì oh no tutto sulle scale ok sì sì vieni qua vieni fuori vieni fuori che vi devo raccontare una bella serenata mettiamo un po di marmellata qui e io lo sapevo che saresti venuti fuori cucciolino si parati parati o dietro la schiena però non ti pari e fringuellino l'amico occhio questo è cattivo è mi sa marmellata dobbiamo usare la marmellata vieni 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 su e vieni su e vieni su giampiero già giampiero 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 occhio questo è un livello ne ho passato ma che diavolo ma ma interisci il codice r4 scone il negozio getti per far parte della gang ma come è possibile che mi ha killato cioè abbiamo più di cento di vita mi ha dato due spadate mi ha tolto 150 cioè surreale surreale va bene comunque non porterà bene la combo su ora più cetriolo che effettivamente non ho mai visto anche perché insomma si sa che le suore i cetrioli non vanno d'accordo poi figurate una suora con un cetriolo di una schiena però insomma più dice oggi il balzo di ilberto ok fammi capire un attimo se questo cetriolo con questa suora possono andare bene insieme oppure non c'è proprio storia o quasi di prendevo vieni qui skin blu dell'altro mai vista quella skin non mi dire agare non mi dirà che perché non ci vuole anzi facciamo fare un bello scherzettino a swagger vediamo se riusciamo a fargli prendere poco ma questo corriva e dopo le ieri o questo ci ha capito niente non c'è capito niente 40 di vita e non è morto ok immortale occhio sono due sono due ok vengono entrambi qui sì 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 anche l'amico vieni 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 che ti aspetto vieni che ti aspetto uno lo viviamo così intanto per non sapere leggere e scrivere e l'amichetto il signor blu lo andiamo a prendere la suona più il cetriolo non ha paura di nessuno ve l'ho detto let's go guardalo è felice si vede il cetriolo niente è già tornato serio dopo un attimo di brio ragazzi è proprio vero non ci stanno più le mezzostagioni ti prego ti prego trolliamolo ti prego trolliamolo ti prego l'abbiamo trollato ti prego salve 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 buonasera la suora killer la suora killer è tornata è tornata official quello si era pure abbassato chissà cosa avrà pensato quel poraccio corri 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 riprendilo 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 chissà aspetta sparano noi comunque faccia no 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 dobbiamo andare dobbiamo andare io ti direi prendiamo sta zitto in modo rapido dove diavolo o scomparsi a guarda dove stanno i vermi o arrivano pure altri questi però gli facciamo le ruote per vivere li prendiamo uno è saltato uno vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua mi chiamiamo mi chiamiamo si devastato il problemino che ci stanno pure gli altri coccodrilli da quest'altra parte questi non hanno minimamente capito da dove abbiamo sparato occhio e non ci abbiamo il cecchino porca la miseria l'ho droppato vediamo cosa diavolo loro sicuramente vorranno prendere il taxi di nuovo almeno che non ci sono intelligenti e ci spizzano dalle finestre penso sì perché vanno proprio qua stanno sparano anche altri che un altro poleglino di qua questi non escono più da dentro sta casa si sono affezionati talmente tanto che non escono più ok è fermo lì vieni 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 baccalavia bianco stra bianco occhio si qualcuno qua sotto sparano altri vieni 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 adesso con la sparano da qua sotto oh mio dio che angoscia no 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 non scendere ok aria per noi ce ne andiamo via 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 stanno tutti qua sotto un playerino e qua davanti quei due dentro la casa sono rimasti dentro la casa due polletti ci dobbiamo mettere qualcosa o è questo tornato qui cucciolo chi diavolo sta sparando sparano questi qua sopra dalla collinetta sono due sono due ok noi li prendiamo dietro abbiamo anche un bel escape fermo fermo ok ma ha sentito ma ha sentito ma ha sentito salve salve ai 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 e calmo questo quanto che ce l'ho pure io zio l'amico è sceso o sì mi dispiace per te che si hanno abbandonato qui cricetino fammi vedere che diavolo stavo combinando lo dico ok vieni 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 rotto lo shield hai il cecco se il cecco siamo belli che morti ok no non al cecco siamo più rapido di noi a spararvi questi o sparano altri anche da quest'altra parte lì c'è un cinghiale furbetto in realtà oh no no stanno sparando potremmo andare a allutare tutto qua io vado a allutare il fascino del looting non lo lascio non lo lascio troppa troppa roba il maledetto è rimasto campionato per tutto no questo lo kill ho fatto prende il corpo o sento di sound questo lo kill ho fatto prendere un colpo pensavo non ci fosse più ne spieni qua ti faccio esplodere sta bella macchinina cucciolo ci vuole acciaccare ci vuole acciaccare occhio lui è uscito dalla macchina ok lo vedo lo vedo lo vedo tanto di là non dovrebbe avere escape si è buttato sotto il vichingo ok c'è nulla sopra lo dobbiamo prende questo c'è il cecchino è un verme straverme via dalla sopra via oh 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 se giampi è buono eh se giampi è buono ok vieni 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 dove è nell'acqua si è proprio qua ti volevo cucciolino il verme maledetto eccolo il verme maledetto si di frullo frullo tutti oh oh fammi fa esplodere sta macchina va che sento troppi sound strani molto molto buono noi siamo cavolo lì c'è un posto dobbiamo villare quel dannazione di post altrimenti giochi siamo 3 contro 1 il problemino e qui stanno una marea di player in ii hanno tutti le ground vieni 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 il problemino che sono i cecchini perché se quello al cecchino fa saltare un mio dio li stiamo decimando dobbiamo fare così dobbiamo fare così dobbiamo andare ancora 7 per ieri vivi quello lo sta restando è io me la gioco così la nostra granatina dopo non abbiamo escape dove è qui o salve il gatto nero di prima guardate che lutto che c'hanno i maledetti tutti o fermi double armetta oro una bomba arrivano 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 li sento ok sono sotto parano sono qui ma sono qui ma sono no non è qua sotto da noi e un altro è qui fuori salve ecco chi ti ha o lei che mi cecchina va il mare per i signori fermi perché l'ultimo player in o credo o mio dio sono nell'ultimo siamo morti è perché mariana cecchinata fermi fammi chi la salve salve questo non ci capisce niente meno male o salve arrivederci ok adesso è l'ultimo player in o dobbiamo sapere uber attenti probabilmente viene qua e noi ci dobbiamo curare per forza al cento per cento prendi vita prendi vita prendi vita ma c'è chi non lo devo prendere però il c'è chi non lo devo prendere anche perché è oro o vai su curava brava brava ok dopo noi siamo in una fortezza pronti a far fuoco solo che non vedo nessuno e anche un viscito perché abbiamo sparato per due ore ma non si è visto nessuno signori ma dov'è sto sparando ma è un pazzo io gli faccio un po una spammata violenza per capire se è ufficialmente là dentro un mio dio un polletto è un polletto andiamo a caccia del polletto sto arrivando zio jean piero zio jean piero zio jean piero zio jean piero ma che placer